Biosalus Village, un nobile progetto che parla di solidarietà e bontà. Un'idea che si spera quanto prima possa diventare realtà. Realizzare in Africa un pozzo e un intero villaggio, così da assicurare un tetto sicuro a più famiglie. Un meraviglioso proposito che si aggiunge alla costruzione di un pozzo nel villaggio di Galeni e a quella di una casa per una donna mamma di sei bambini. Una realtà dura in Kenya che ha motivato l'agire di Mauro Messina, affermato imprenditore di Bari, che dopo un viaggio di piacere in Africa ha sviluppato fortemente la voglia di aiutare quel popolo in difficoltà. Un'attenzione verso il prossimo che ci invita a riflettere anche in occasione della giornata mondiale di lotta contro la povertà che ricorre sabato 17 ottobre. In tante parti del mondo a mancare a migliaia di bambini e alle loro famiglie servizi e beni essenziali quali acqua corrente, elettricità ma anche solo un tetto sulla testa. Il brand owner di Biosalus Italia ormai da anni interviene laddove esiste un reale bisogno. L'amore per l'Africa nasce in vacanza, una vacanza per un po' di relax. Mi sono innamorato di questo popolo e di questa terra. In vacanza mi sono reso conto di quante erano le difficoltà in questa terra. In primis la difficoltà nel reperire acqua. Vedere queste donne fare chilometri con questi bidoni di plastica sulla testa per raccogliere acqua è stato determinante per far scattare in me il desiderio di aiutare questo popolo. Essendo appunto l'acqua parte integrante del mio lavoro, della mia attività ho pensato di fare qualcosa per migliorare la vita di queste persone anche se in piccola parte abbiamo iniziato a realizzare un piccolo pozzo in un villaggio per garantire acqua potabile a persone che non ne avevano. Eravamo lì appunto perché avevamo realizzato questo pozzo e passeggiando nel villaggio abbiamo visto questa donna disperata con due bambini piccolissimi sulle spalle che cercava di rimettere in piedi una casa appena distrutta dal vento e ci ha incuriosito insomma vedere la disperazione di questa donna e quindi scattata proprio la necessità di volerla aiutare da subito. Abbiamo iniziato nell'aiutarla a rimettere su questa casa però poi abbiamo contattato un costruttore del posto per realizzarle appunto un'abitazione solida.